Mille persone in piazza per difendere il pronto soccorso e l'ospedale di Solofra accadeva a giugno di un anno fa. La protesta si risolse con un nulla di fatto. Le rassicurazioni di De Luca, che definì finanche imbecilli, alcuni sindaci non hanno intanto trovato un riscontro. I lavori per l'ospedale procedono a rilento. Che cosa ne sarà del punto d'emergenza aperto per quante ore e con quali finalità è un rebus? Il Tar ha dato intanto ragione al Moscati, la riqualificazione è legittima. Il Tribunale si è dichiarato incompetente nello stabilire cosa andasse o non andasse fatto. Se ci sarà o meno ricorso in Consiglio di Stato non è chiaro. Dialogo aperto tra il neosindaco Moretti e il governatore almeno fino al 25 settembre. Avellino col sindaco Festa, che ci aveva visto giusto, è già pronta a proseguire nella battaglia legale, fanno sapere da Palazzo di Città. E se il sindaco del capoluogo aveva intuito il rischio derivante dallo smembramento in sanità, ancora di più lo aveva fatto Cittadinanza Attiva, che in queste ore rilancia la proposta. Il Landolfi passi di nuovo in capo alla ASL. Il presidente del Tribunale per i diritti del malato a giugno 2021, nella manifestazione per la tutela del diritto alla salute, in pandemia dichiarava. Dobbiamo liberare il Moscati dagli impegni più importanti, delle cure complesse. Cioè loro devono salvare la vita, non è che devono perdere tempo per le cure meno complesse. Cioè noi eravamo qui, un protocorso che faceva 20 mila accessi all'anno, la popolazione era soddisfatta e quindi alleggeriva il carico del Moscati. Quindi non hanno saputo cogliere questo momento, penso che sia il caso di riprendere, ridarlo all'ASL come era prima. Non è sopportabile la modalità di accesso alle cure al Moscati, perché è perennemente sovraffollato. Ci sono problemi di ordine sulla sicurezza del luogo del lavoro, c'è stato pure un aspetto penale da vedere. Ma la cosa più grave è che i medici sono distratti da cose molto più importanti, per le quali lì è uno Moscati, che è dei a secondo livello, per cui deve vedere il bacino macro aria, bene a venti di Avellino, per i reparti che hanno. Quindi deve essere sempre pronto a salvare le vite umane. Grazie a tutti.